Una buona serata a tutti da Marco. In Italia è tornata una momentanea fase stabile grazie allo spostamento dell'anticiclone dell'Azzorra verso la penisola italiana. Domani su tutta l'Italia il cielo sarà piuttosto sgombro da nuvole o al più irregolarmente nuvoloso. Intanto il vortice polare sta scivolando dalla Scandinavia verso i paesi baltici. Nel prossimo weekend si potrebbe muovere da est verso ovest raggiungendo la nostra penisola con un imponente raffreddamento in tutta Italia e soprattutto nei versanti adriatici. Ancora difficile capire se il gelo sarà accompagnato da una fase di maltempo che si tradurrebbe in nevicate a quote bassissime. In Abruzzo ritornerà per domani il sole su tutta la regione e saranno poche le nuvole in cielo. La ventilazione seppur debole continuerà ad insistere dai quadranti settentrionali ed il mare da mosso tenderà a divenire poco mosso. Il ritorno del cielo sereno favorirà un calo dei valori minimi che infatti saranno compresi tra meno 5 delle conche aquilane e 4 gradi delle coste. In aumento le massime rispetto a quelle odierne con i valori compresi tra 7 e 11 gradi. Per la meta è tutto, buon proseguimento di serata.